Ciao a tutti ragazzi, qui è Dexta, oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online con nuove gare stunt, oggi partiamo con la tempesta, questa qui è una gara GTA quindi le bombe tra pochissimo salteranno ragazzi, e penso pure tutte perché la gara dovrebbe durare un bel po', allora vediamo subito di allontanarci dagli altri vai, le armi tra pochissimo saranno abilitate, infatti prendiamo i razzi, spariamo indietro mamma mia, devasto, tre giocatori uccisi ragazzi, allora qui andiamo a sinistra vai, 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 mamma mia, fortunatamente lì, insomma sono partito primo, vai che esplodo un altro perfettissimo ragazzi, altri due, altri due, cioè io con un colpo qui veramente disintegro tutti, c'è altra gente dietro, per il momento no, va bene, allora potremmo pure piazzare qualcosa qui intanto c'è del turbo, vediamo di andare, vai, 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 vai perché non l'ha preso? Non è andato ragazzi, non so perché, qui potrei sparare qualcosa vediamo, spariamo indietro, non è morto, no, niente da fare, allora devo tornare ma devo praticamente ragazzi fare tutto il giro per salire, sì, allora vediamo un po', vai giriamo, 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 gira, 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 gira vai, ok, l'ho presa ragazzi, all'inizio non so perché ma non girava, ovviamente c'è la forza di gravità qui, comunque ero in prima ma ormai ho perso un bel po' di posizioni allora stiamo cercando di salire, io seleziono le bombe adesive così magari già appena saltiamo fuori faccio qualcosa, vai, 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 perfetto ragazzi prendi il checkpoint, cioè immaginate morire a quel punto, qui qualcuno mi stava lanciando delle bombe, va bene sto arrivando, sto arrivando, dai che prima ho fatto il devasto devo ovviamente continuare allora a fare il devasto, vai, perfetto, continuiamo qui dentro i tubi, uh, 360, no ragazzi sto facendo il 360 ma non ha girato, no purtroppo non lo so, delle volte l'auto si stacca praticamente dal tubo, allora vediamo di ripartire e prendiamo ovviamente le bombe adesivo, cioè potrei pure piazzare le mine però, andiamo, 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 c'è qualcuno dietro qui, devo andare piano, perfetto, ah c'era il rallentamento bastardo, bomba, piazzata, esplodi, morto, no ragazzi non è morto, prendi i razzi, spara, no non li ho presi, via, 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 bomba, è morto, no, non è morto ragazzi ma come è possibile, l'ho ucciso quello, niente, questi qui non li uccido, non si sa perché, cerchiamo di muoverci, bombe in fondo, vai quello è morto, che recupero, che recupero con l'uccisione, fantastico, fantastico, niente, c'era, ok, quello davanti mi avrà lanciato qualcosa ragazzi e sono morto, comunque va bene, già l'importante è che ho preso quel checkpoint niente, inizio di gara, fantastico, poi però, ora siamo in settima posizione così allora dietro c'è uno, via, 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 devo stare attentissimo, bombe piazzate, esplodi, bomba, morto no, niente da fare ragazzi, oh, curva, mamma mia, cosa sto recuperando oggi, cosa sto recuperando qui piazza una bella bomba, esplodi, ho i razzi, cazzo quello non l'ho preso, qui c'è il checkpoint salta in aria, non è morto, ma questo non muore, cioè, gli sto lanciando un sacco di bombe ragazzi ma, va bene, è morto da solo, si è suicidato, è caduto solo, via, 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 superiamo tutti bomba piazzate, esplodi, mi cambia la radio, gta bastardo allora qui mi sa che stiamo leggermente recuperando vai col turbo, che cazzo è, rallentamento è turbo allora, siamo nei tubi, vai, comunque gara veramente molto lunga ok, qui dovremmo saltare fuori, almeno credo, no, questo è tipo un loop dentro al tubo, perfetto, vai, 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 calma, calma, quando l'auto eh, qui si doveva fare la curva, ma ovviamente come faceva a saperlo, non lo so, però cerchiamo di rimanere stabili, stabilizziamo l'auto ragazzi soprattutto in discesa ok, no, niente, siamo esplosi, siamo esplosi, niente da fare cioè, per pochissimo, non ho preso il checkpoint, va bene, qui allora ci facciamo la curva, e poi non so come che sono esploso, perché era atterrato più o meno bene allora, andiamo girando così, vai, prendiamo pure un sacco di velocità così si recupera un po', perfetto, checkpoint preso ma questa mi sa che è la zona che abbiamo fatto all'inizio no, forse no ragazzi, forse no c'è uno dietro? No, non c'è nessuno no, invece sì, invece sì, è la zona che abbiamo fatto all'inizio allora, io seleziono di nuovo le bombe adesive, anche se ho i razzi già a portata di mano, però non si sa mai allora, ah no, dobbiamo salire, dobbiamo salire merda, c'è qualcuno dietro esplodi, vai, quello è morto andiamo, 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 vai, girando selezioniamo le bombe adesive ok, bombe adesive selezionate ragazzi, stiamo continuando che cazzo è? no, mi sono passati dei razzi accanto no, questa cosa è stata bruttissima guarda, vabbè vabbè, vabbè, come fa a succedere una cosa del genere? spiegatemi come faccio a prendere un altro giocatore cioè, è incrociarlo, niente, ricompariamo ragazzi, le cose che succedono sono veramente incredibili quello è caduto bomba, esplodi che cazzo è? sopra di me, via, 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 giriamo, giriamo le bombe a cui comunque non le posso piazzare andiamo, andiamo facciamo tutto il giro dai, devo salire cioè, ero quasi arrivato alla fine ma purtroppo ho preso uno andiamo il problema è che se gli altri prendono i razzi li sparano e c'è il rischio, ragazzi, di essere colpiti merda, c'è quello per poco non l'ho preso, sicuro sicuro per pochissimo, ragazzi non l'ho colpito ok, qui ci siamo prendo il checkpoint vai, 360, non voluto strano e qui si continua abbiamo i razzi ora ok, andiamo alla perfezione comunque mi sa che abbiamo fatto più o meno il percorso di prima al contrario cioè stiamo tornando niente, qui me ne sono andato fuori vedete l'auto si alza delle volte da terra e non c'è verso di controllarla perché è come se sta volando e ci ho perso però purtroppo turbo piazziamo, esplodi ok, quello è morto mamma mia mi sono arrivate qui le carcasse alle auto vai, vai ripartiamo c'è qualcuno che arriva no? da davanti forse sì vediamo c'è qualcuno qui ragazzi bomba salta in aria non è morto no, non è morto via, via, via andiamo indietro bomba piazzata allora la bomba è esplosa io non ho preso nessuno mi servono i razzi li spariamo indietro non è morto quello incredibile via, 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 via razzi per te non è saltato vabbè ragazzi qui c'è qualcosa che non va i razzi non esplodono bomba in volo non è morto c'è questo qui veramente immortale i razzi prima glielo ho sparati ma niente non l'ho preso ah guardate che cose infami c'è qui l'auto mi cade direttamente giù vabbè niente niente gara senza spiegazioni vediamo se ora va no niente da fare allora mi devo prendere per forza la rincorsa c'è che senso ha questo checkpoint così andiamo indietro e cerchiamo di saltare velocità ok ora ce l'abbiamo ragazzi qui niente quello non l'ho preso bomba in ritardo allora devo stare attento ora a delle mine o a cose del genere calma allora eh avevo sentito più o meno una mina si una mina l'avevo più o meno sentita allora ora niente continuiamo da questa parte ragazzi comunque la gara veramente stranissima abbastanza particolare però dai gta armi tubi strani da prendere veramente diversa il problema è che ora dietro non c'è nessuno e manco davanti quindi forse non farò più uccisioni da qui fino alla fine della gara allora c'è il checkpoint vai lo prendiamo questo qui lo uccidiamo perfetto ora una bella mina qui la piazzo ok mina piazzata speriamo faccia qualcosa intanto sto sculacciando quel giocatore andiamo ragazzi giù per il tubo curva curva fai la curva qui esplodo qui esplodo di nuovo merda merda esplodo ragazzi sicuro 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 invece invece no vai checkpoint preso allora piazzo un'altra mina ormai la piazzo tanto la gara è finita c'è soltanto qualche giocatore dietro comunque quello non è morto con la mina qui però mi sa che salterà lì penso di sì c'è l'ultimo checkpoint e il traguardo allora lo prendiamo vai ragazzi c'è della gente ferma lì non promette bene via spariamo saltate tutti in aria ok vai sono esplosi quelli mi sa che volevano un po' trollarmi però io comunque per sicurezza insomma li ho fatti saltare in aria gara completata e niente è stata veramente strana ragazzi all'inizio ero in prima posizione da solo poi purtroppo quei tubi mi hanno fatto un po' saltare in aria diverse volte perché l'auto si alzava dalla superficie insomma e quindi di conseguenza non avevo più aderenza e molte volte saltavo in aria per questo però abbastanza particolare e andremo a fare un'altra e rieccoci qui adesso con le rocket voltic veicoli speciali per noi allora qui ma cos'è quello è già un ostacolo mi sa che dovremmo sfondare il cartello vai potenza sfondiamo tutto perfetto ragazzi proprio sfondamento brutale lì della barriera qui stiamo andando al massimo vai 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 senza fermarci immaginate cadere qui basta che qualcuno mi sfiora il propulsore mi fa andare praticamente via non si sa dove quindi cerchiamo di stare attenti ci sono tutti gli altri giocatori dietro infatti vai 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 super volo perfetto ragazzi allora quello mi ha toccato va bene cerchiamo si è il checkpoint e dovremmo arrivarci in maniera perfetta all'inizio pensavo di poterli pure superare invece no vai ci siamo perfetto e qui si salta però vediamo un attimo il salto ecco andiamo da questa parte ora col propulsore vai mamma mia che recupero che recupero uh devo girare di nuovo vai col propulsore ok ce l'abbiamo ragazzi mamma mia mamma mia andiamo ancora stabilizziamo e andiamo col propulsore no questa parte è stata bellissima vai si continua sfondiamo tutto ancora no bellissima quella parte lì ragazzi l'ho giocata veramente bene ovviamente poi mi sono toccato pure con gli altri quindi è stato pure un po' di fortuna allora qui noi andiamo tranquillamente vai col propulsore perfetto non sbandare checkpoint preso questa cosa è una discesa si prevedibile vai vai propulsore non ci fermiamo rischiamo il tutto per tutto ok siamo dentro un tubo vai propulsore qui c'è un ostacolo superato andiamo ragazzi andiamo andiamo potenza potenza non mi fermo rischio tutto veramente andiamo ancora propulsore nella curva vai checkpoint preso qui che cazzo c'è devo sfondare di nuovo si per forza ok abbiamo sfondato c'è la curva no no che cos'è bastarda riparti riparti no c'è il traguardo c'è il traguardo c'è il traguardo c'è il cazzo di traguardo rimettiti bene no non ci credo ragazzi mi ha superato all'ultimo vabbè che cosa infatti guardate qui terza posizione quelle cazzo di cose laterali che poi cos'era quei faretti laterali non mi hanno fatto prendere la prima posizione niente da non credere da non credere ragazzi comunque gara bellissima non me l'aspettavo sinceramente una gara del genere con i propulsori dovevi finire nelle varie mega rampe anche se alla fine si poteva arrivare lì comunque pure senza il propulsore però noi l'abbiamo utilizzato e poi sono stato trollato all'ultimo ragazzi che dire spero che il video vi sia piaciuto abbiamo giocato delle gare molto belle qui a Dexta lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ieri ciao a tutti ieri ciao a tutti ieri